Oltre 25 anni per arrivare alla verità di un delitto legato anche ad uno degli omicidi più atroci della storia. La morte di un imprenditore onesto che non aveva voluto piegarsi alla mafia si lega a quella del piccolo Giuseppe Di Matteo. Il nome è quello di Filippo Sciara, 54 anni, ritenuto affiliato alla famiglia mafiosa di Siculiana. Secondo i carabinieri di Agrigento che lo hanno arrestato sarebbe il presunto esecutore materiale dell'omicidio commesso 25 anni fa a Cianciana in provincia di Agrigento di Diego Passafiume, 41 anni, imprenditore nel settore del movimento terra. Ma sarebbe anche coinvolto nel sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo sciolto nell'acido l'11 gennaio 1996 poco prima di compiere 15 anni dopo 779 giorni di prigionia. Diego Passafiume venne assassinato il 22 agosto 1993 con tre fucilate una delle quali lo ha raggiunto al volto perché non aveva voluto piegarsi alla regola imposta dalle cosche mafiose sulla spartizione dei subappalti nel settore del movimento terra e del trasporto di inerti. Dopo una prima archiviazione delle indagini a carico di ignoti l'inchiesta era stata riaperta grazie anche ad alcune dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Pasquale Salemi, Maurizio Digati e Giuseppe Salvatore Vaccaro. Le indagini degli investigatori del reparto operativo di Agrigento però non si sono mai fermate, infatti il cold case è stato risolto grazie alla raccolta e all'incrocio di alcuni indizi raccolti nel tempo. La vera e propria svolta nelle indagini si è avuta nel luglio del 2017 quando i carabinieri hanno fatto vedere alcuni album fotografici a dei parenti della vittima che all'epoca assistettero al delitto e hanno dunque concentrato i sospetti proprio su Filippo Sciara. E così nelle ultime ore su ordine della direzione distrettuale antimafia di Palermo i carabinieri di Agrigento hanno eseguito nei confronti di Filippo Sciara l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo per il reato di omicidio premeditato.